Cari Pellegrini, in occasione dell'ultimo editoriale, cioè quello riguardante i funerali della scrittrice Michela Murgia, c'è stato qualcuno che ha scritto dei commenti dicendo che non si deve mai giudicare. Allora vediamo un poco di riprendere questa questione in merito alla possibilità o meno di giudicare, partendo ovviamente da quella famosa espressione di Nostro Signore che dice che non bisogna giudicare. Allora io mi limiterò a riprendere un articolo che è pubblicato sul sito, che fu pubblicato sul sito e quindi è ancora adesso rintracciabile sul sito, che scrissi penso un paio di anni fa, due o tre anni fa. Vado a riprendere questo articolo e utilizzo la lettura di questo articolo molto breve, molto breve, come editoriale di quest'oggi. L'articolo, per chi lo volesse andare a ricercare sul sito, è questo. Si giudica l'errore ma non l'errante? Questo solitamente si afferma, no? Si giudica l'errore ma non l'errante? No, va giudicato anche l'errante. Che detto così può creare un po' di scalpore, un po' di meraviglia. Dice ma com'è possibile questo? Allora vediamo un po' che cosa è scritto nell'articolo. Spesso si dice che non bisogna giudicare il prossimo, ma cosa veramente significa e cosa davvero comporta una simile affermazione? Gesù dice di non giudicare, Matteo 7, versetto 1. Ma giudicare in senso evangelico non vuol dire giudicare in quanto esprimere un giudizio, bensì non condannare definitivamente. Facciamo un esempio. Se Mario Rossi vive una vita di peccato, non debbo condannarlo definitivamente, pensando che non possa più redimersi. Oppure pensando che non abbia intimamente delle attenuanti che solamente il Signore può scorgere nella sua coscienza. Anzi, da questo punto di vista devo pregare per lui e far di tutto affinché possa emendarsi. E forse, chissà, potrà anche divenire un grande santo Mario Rossi. Di esempio a riguardo, grazie a Dio, se ne potrebbero fare tanti. Pensate, tanti santi che da una vita di peccato poi sono approdati ad una vita appunto di santità. Ma continuando nell'esempio, dice l'articolo, ciò non significa che Mario Rossi non dobba essere giudicato nel momento in cui è peccatore e si comporta come tale. Qui, infatti, c'è un'ambiguità che va chiarita. Spesso si dice che vada giudicato l'errore ma non l'errante. No, va giudicato l'errore ed anche l'errante. Nel senso che bisogna riconoscere che l'errante sta errando. E in tal senso, come impongono le opere di misericordia spirituale, l'errante deve essere ammonito. Se non si giudica l'errante come errante, non lo si potrà aiutare. E qui l'articolo termina, perché vi dicevo che è un articolo molto breve, termina dicendo questo, se il medico non riconosce che il malato è ammalato, non si attiverà a curarlo con la speranza di guarirlo. Allora qui, vedete, dobbiamo avere le idee molto chiare. Evidente che quando c'è un personaggio che dice delle cose estremamente pericolose, che dice delle cose che vanno contro quello che è la verità naturale e cristiana, e che casomai può anche divenire un cattivo maestro e quindi diffondendo determinati errori può condurre altri a sbagliare, a condurre una vita sbagliata, a fare delle scelte sbagliate, eccetera. E questo oggettivamente lo si deve giudicare. Lo si deve giudicare per cercare di arrestare questi errori, per mettere in guardia soprattutto i semplici, che possono essere più facilmente condizionabili, da questi errori. E questo va anche a beneficio di colui che sta sbagliando, perché nel momento in cui c'è qualcuno che ammonisce chi sta sbagliando, e colui che sta sbagliando può anche ravvedersi, può anche, non necessariamente, ma dipende dalle sue scelte, ovviamente, dalle sue scelte e quindi dalla responsabilità che ha, ma può anche ravvedersi. Altra cosa è invece dire, no, perché tu hai detto questo, perché tu hai fatto così, ormai non c'è più speranza per te. No, ecco, questo è un giudizio definitivo che nessuno di noi può esercitare nella maniera più assoluta, perché, né tantomeno quando muore una persona, un peccatore, un pubblico peccatore, eccetera, nessuno di noi può permettersi di dire è sicuramente all'inferno, perché è chiaro che poi il giudizio definitivo lo dà solamente Dio. Ma nello stesso tempo il Signore vuole che giudichiamo in questa vita, cioè giudichiamo sapendo bene qual è il discrimine tra il bene e il male, tra la verità e l'errore. E questo torno a ripetere, non per offendere o contrastare la misericordia infinita di Dio, no, ma anche questo è un atto di misericordia, infatti misericordia spirituale, perché va a beneficio, torno a ripetere, denunciare l'errore, giudicare l'errore, giudicare anche l'errante, cioè nel momento in cui sta sbagliando, va a beneficio dei semplici, va a beneficio della comunità intera, in maniera tale che possa essere salvaguardata dalla pericolosità di certe idee, ma nel stesso tempo va a beneficio anche di colui che sta sbagliando come occasione. Voi pensate nel momento in cui un genitore che ha una responsabilità, oppure una persona che ha una responsabilità all'interno della Chiesa, eccetera, e così via, un vescovo, un papa, un parroco, eccetera, che non mette in guardia i fedeli dagli errori e che non dice ad un errante che sta sbagliando, nel momento in cui questo parroco, questo vescovo, questo papa, questo genitore nei confronti dei propri figli, eccetera, andrà davanti al Signore, il Signore diceva ma perché non hai detto a colui su cui tu avevi una responsabilità che stava sbagliando. Guardate che questa è una responsabilità enorme, è una responsabilità gravissima, gravissima, e stesso, e nel giudizio finale, se noi non avremo ammonito gli erranti, gli stessi erranti che casomai si perderanno, ci accuseranno perché non abbiamo fatto quello che Dio voleva che si facesse nei loro confronti. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.